1 Bella a tutti ragazzi e benvenuti A questo nuovo contest Che è già la terza volta che lo stiamo facendo Io sono Xluder Io sono la famina Ragazzi stiamo per caricare questo contest che vedrà vincere uno di voi 10 10 10 euro ragazzi dovete solo Commentare non in chat Lo dico perchè c'è la gente in chat che sta guardando Sotto il video La parola chiave che vi diciamo è Fastweb non ci fa Paura va bene Mi raccomando ragazzi commentate qua Un solo commento è valido andremo ad estrarre Alle ore 20 E 45 mi raccomando Ciao